per questa puntata di inside boh siamo andati nella sede centrale di leila la biblioteca degli oggetti in via serra bologna qui puoi prendere in prestito oggetti proprio come i libri biblioteca abbiamo intervistato antonio beraldi uno dei fondatori che ci ha raccontato di questa realtà nel lontano 2015 con appunto la compagna che avevo proviamo a tirar fuori dal cassetto questo sogno che avevamo di questa biblioteca degli oggetti ne avevamo sentito parlare da un articolo dell'internazionale in cui si parlava di questa cosa che per noi era una genialata cioè un posto dove si potessero prendere in condivisione gli oggetti come si prendono i libri in biblioteca abbiamo scritto il progetto e l'abbiamo mandato all'ufficio di cittadinanza attiva e nel giro di 15 giorni ci hanno convocato noi abbiamo inaugurato poi leila il 16 aprile del 2016 poi tutto prende una la diverso una sezione diversa quando siamo riusciti a vincere un bando e ad avere questa sede ha ripreso il cammino il sogno di diventare un vero servizio cittadino da noi si fa una tessera ma questo non implica il fatto che puoi iniziare ad utilizzare la biblioteca perché la seconda cosa più importante che ti dà diritto ad utilizzare la biblioteca è che ognuno mette in condivisione un proprio oggetto fino alla fine dell'anno alla fine dell'anno poi puoi decidere di riprendertelo oppure di rinnovare il servizio e di continuare ad utilizzare la biblioteca questo ti dà diritto ad utilizzare tutto quello che c'è prenoto vengo prendo utilizzo e restituisco proprio come un libro di una biblioteca chi fa la tessera ha una tessera con un numero e sul sito c'è l'elenco degli oggetti se sono in prestito sopra c'è un banner che ho scritto torno presto altrimenti ti serve il trapano clicchi sul trapano metti il tuo nome il cognome il tuo numero di tessera e lo prenoti dopodiché ti arriva una mail con gli orari di apertura di leila e ti dice passa a prenderlo il primo giorno utile è questo lo puoi tenere massimo un mese e lo puoi rinnovare una volta sola le cose per neonati barra bambini si possono ottenere fino a massimo di sei mesi mi piace dire che l'assicurazione siamo un po noi cioè l'associazionismo serve a questo a fare delle cose insieme in che modo lei la parte dei soldi che riceve dai tesseramenti lo mette da parte quella è la nostra garanzia diciamo così nei confronti dell'oggetto abbiamo lanciato la campagna mi illumino di meno di caterpillar su radio 2 e quindi questo ci ha dato una grande visibilità tale che alcune alcuni paesi alcune città poi ci hanno chiesto di aiutarli a sviluppare il progetto quindi poi è nata lei la formigine in provincia di modena abbiamo dato una mano a zero la biblioteca degli oggetti di palermo abbiamo abbiamo costruito una comunità abbastanza particolare grande piccola insomma dipende dai punti di vista i lei la in europa quando noi siamo partiti erano otto c'era lei la berlino lei la barcellona insbruck insomma erano otto dopo un po di tempo dopo un paio di anni c'è stata questa ragazza ana di lei la vienna che ha fatto una ricerca sociologica per la sua dottorato su queste iniziative che nascono dal basso di biblioteca degli oggetti e ne aveva censite una una ventina e e una cosa che figo ogni tanto succede ed è bello e mia il feedback che ci ha lanciato è guardate che la maggior parte dei lei la in europa guardano bologna perché perché siamo stati capaci da un certo da un certo punto di vista ma anche bologna una città molto recettiva vi siete ramificati molto velocemente nella città avete stretto collaborazioni sia col pubblico che col privato ha firmato questa convenzione con le biblioteche quindi a breve verrà lanciato questo servizio ufficializzato questo servizio per cui dentro sala borsa accanto ai libri ci saranno anche gli oggetti e questo per noi un traguardo è una nuova partenza e quindi questo è molto velocemente come siamo arrivati ad oggi e come siamo partiti